Musikopschule, Firebolt in Breisgau. Certo che dai miei occhi si vede che la birra è buona. Ragazzi e ragazze benvenuti sul canale del prof di Tromba. Oggi vi porto in un luogo meraviglioso dove ho avuto il privilegio di studiare per qualche anno. Qui sono a Friburgo. Mi regalo quando è possibile per il mio compleanno questa bella gita a Friburgo e ci sono dei personaggi là dietro che adesso vi faccio conoscere. Andiamo a vederli. Questa è la Musikopschule di Freiburg in Breisgau e stanno facendo i lavori. Come potete vedere è una scuola bellissima. Lì c'è la mensa, i tavoli dove si chiacchierava. Poi di sotto c'è una cantina dove si può studiare a tutte le ore del giorno. Questo è un personaggio molto molto simpatico. La mamma che dice di fare silenzio al bambino e poi questi che stanno origliando. Che meraviglia. Guardate che bello. Senti, invece di stare qui ad origliare clicca qui in alto e vai ad ascoltare un bellissimo arrangiamento fatto dal mio collega Gianni Bonnelli dove ci sono anch'io modestamente. E anche voi fateci un salto. Meraviglioso. Qui dove parcheggiano le bici e adesso vi faccio vedere l'ingresso della cantina dove si può accedere soltanto attraverso un badge. Quanti bei ricordi. Il mio prof Anthony Plovio in questi giorni non è a Friburgo perché è in America. Magari la prossima volta ve lo farò conoscere. Quanti bei ricordi e quanti bei capelli ragazzi. Incredibile. E anche il prof di tromba aveva i capelli. Eh qui si andava a studiare. Che spettacolo. Parlo piano perché è un posto sacro. È un tempio. Che meraviglia. Quindi a tutte le ore del giorno e della notte. Ho anche dormito una notte sotto un pianoforte. Si può accedere qui. Spettacolare ragazzi. Guardate che bello. Qui puoi inserire il badge. Queste sono tutte le stanze. Qui invece c'è l'altro ingresso. C'è la zona percussioni. Loro li hanno isolati dall'altra parte. Ragazzi io continuo la mia corsetta qui a Friburgo. E da Friburgo è tutto. Un carissimo abbraccio a tutti voi. E ci vediamo. Speriamo presto nei prossimi video. Un abbraccio da Friburgo. Ciao. Fanno studiare. Brave. Ciao. Ciao.